Ben io non mi ricordo tuo padre e mamma che cosa erano Ben no, mamma mia io non mi ricordo no, io gli ho preguntato la mamma reda cambia perché siamo parenti mia, mamma reda cambia non avali, mi chiesa non è istana no, non esistai avvalato ma, veda se ne m'è, veda a somma non lo intendo Ben 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.